Credo che le caratteristiche che abbiano contribuito di più al raggiungimento dei miei successi sono state la determinazione, il coinvolgimento delle persone con cui ho lavorato, perché credo che una leadership sia un po' la sintesi di entrambe le dimensioni e anche entusiasmo. Ho sempre cercato di fare i lavori che mi piacevano, cambiandoli quando non c'era più degli stimoli sufficienti. Le esperienze positive sono state sicuramente molto legate ai capi che ho avuto, ai valori delle aziende, valori nei quali mi riconoscevo e credo che sia importante. Negative forse i disaccordi con i soci talvolta, che mi hanno poi fatto propendere per percorsi differenti. Io penso che la prima cosa che debbano riuscire a sfruttare è la consapevolezza come persona, come mente, come intelligenza sociale. Molto spesso le donne stesse si sottraggono a responsabilità, a avanzamenti di carriera, perché magari si sentono caricate di oneri che provengono dall'esterno o dall'interno della famiglia. Penso che siano l'intelligenza sociale le leve principali, la capacità anche innovativa, il multitasking e la capacità di coinvolgimento.